Il procuratore della DDA di Reggio Calabria scrive una lettera al Corriere della Sera per invitare i Lombardi a ribellarsi all'Andrangheta. Questo cancro della società, scrive il magistrato, mette a rischio l'economia e la democrazia del nostro paese. Ci sono 12 minorenni tra i migranti egiziani approdati sulla spiaggia di Cariati. Ora questi ragazzi sono ospiti alla casa di accoglienza Giovanni XXIII di Rossano, gara tra le famiglie per l'affidamento. Chiuse le indagini dell'inchiesta per far luce su presunte irregolarità nella prescrizione medicinali, l'ipotesi accusatoria rivolta ai sei medici indagati e di avere proceduto all'intestazione di ricette mediche a persone defunte, allo scopo di gonfiare il numero degli assistiti. Erano stati rubati in regioni del nord Italia 12 fucili, tra cui quattro risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sequestrati dai carabinieri di Libonese e due le persone arrestate. Su 4 miliardi di fondi europei destinati allo sviluppo della Calabria, la regione ha individuato i canali di spesa per 1 miliardo e 800 milioni. Nella somma impegnata è stato pagato solo il 20%. Il resto dello stanziamento comunitario rischia di finire nelle casse dello Stato per realizzare progetti in altre aree del paese. Le nuove procedure per rapportarsi al sistema sanitario nazionale non convincono i medici di base. Non siamo dei burocrati, dicono. Il nostro compito è curare chi ha bisogno. L'arcivescovo di Cosenza Salvatore Nunna li definisce un miracolo il lavoro effettuato in questi anni per restaurare il Duomo. La cattedrale è tornata agli antichi splendori. Se Giuseppe Pignatone, capo di una procura di trincea come la Didier Regina, sente il bisogno di prendere carta e penna e scrivere una lettera aperta su uno dei maggiori quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, ai cittadini lombardi, invitandoli a reagire, a non lasciarsi imprigionare dall'omertà e nell'omertà, vuol dire che l'Andrangheta ha raggiunto un livello di pericolosità elevatissimo, tanto da diventare emergenza sociale nazionale. Da due anni a questa parte, soprattutto dopo l'attentata alla Procura Generale di Reggio, gli organi di informazione, scrive Pignatone, hanno cominciato a dedicare un'attenzione crescente all'Andrangheta e a quello che essa rappresenta per la Calabria e per l'Italia. Comincia ad essere squarciato quel cono d'ombra, prosegue Pignatone, che ha nascosto per decenni la criminalità organizzata calabrese ad un'opinione pubblica preoccupata da altre emergenze, il terrorismo, Tangendopoli, Cosa Nostra, i Casalesi. Un cono d'ombra informativo che ha impedito di cogliere non solo la diffusione dell'omertà e del silenzio in tante province lombarde, come denunciato dalla Procura di Milano, ma ancora e di più la presenza dell'Andrangheta in tanti settori dell'economia dell'Italia centrale e settentrionale, luogo ideale per investire, senza destare troppa attenzione, le somme incentissime di cui le cosche dispongono. Con la politica del basso profilo e grazie alla disattenzione, scrive ancora Pignatone, l'Andrangheta è riuscita a penetrare strati sociali diversi, acquisire alleanze e complicità, basate spesso sulla paura, ma a volte anche su calcoli di convenienza, pacchetti di voti per i politici, laute parcelle o buoni affari per i burocrati e i professionisti, capitali a buon mercato e così via, come testimoniato dall'inchiesta crimine, che ha ricostruito l'organizzazione andranghetista in Lombardia, capace di progettare anche a lungo termine. Un esempio, un boss di San Luca intercettato mentre programmava di concentrare i voti delle cosche su sei candidati di fiducia scelti in maniera strategica sul territorio, da fare leggere prima nel Consiglio provinciale, poi in quello regionale, poi in Parlamento per avere in quella sede uomini propri senza l'intermediazione dei partiti, quindi un appello ai Lombardi. La sola azione repressiva non basta, è necessaria la reazione della società civile in tutte le sue articolazioni per contrastare il silenzio e l'omertà. Certo, sembra incredibile che nell'efficientissimo nord si ponga il problema dell'omertà, ma così è vista la colonizzazione operata dall'andrangheta da decenni, di cui forse solo ora si sta prendendo coscienza. La rottura del cono d'ombra per Pignatone è quindi essenziale. La chiesa di Cristo Re a Cariati è stata la prima casa per i 27 egiziani sbarcati ieri mattina nella cittadina dell'Alto Ionio. Oggi i migranti, di cui 12 minorenni, sono ospitati nella casa accoglienza Giovanni XXIII a Rossano. In questi letti dormiranno per almeno 10 giorni prima di essere trasferiti, ma è un provvedimento che riguarda solo gli adulti. I ragazzi, che hanno un'età compresa tra i 14 e i 17 anni, hanno una posizione legale diversa. Per loro è prevista la tutela, dunque resteranno nella città bizantina. Ma quali sono le condizioni di salute? Le condizioni di salute sono alquanto favorevoli, a parte segni di stanchezza, bianchezza, disidratazione per alcuni ragazzi. Comunque abbiamo provveduto con i carabinieri di Rossano, i carabinieri di Cariati, con la polizia di Rossano a fargli fare una visita in ospedale. Quindi le condizioni sono alquanto buone, a parte qualche minorenne che è stato ricoverato per disidratazione. Nel primo pomeriggio i giovani stranieri sono stati portati dai carabinieri per le operazioni di dito. Parlano solo arabo e il sacerdote ha faticato non poco per trovare un interprete. Quali storie hanno raccontato? Hanno raccontato i sette giorni di viaggio buttati in mare tra le onde senza mangiare, senza bere. Sono stati giorni terribili, era segnato nei loro occhi praticamente. Attorno al centro d'accoglienza è scattata una vera e propria gara di solidarietà e qualche famiglia ha già chiesto l'affido dei minorenni. Ci sono alcune famiglie anche qui del nostro centro per ragazze e madri che stanno chiedendo un attimino un posto anche di alloggio proprio perché loro possano trovare un affetto, una famiglia e solidarietà e ce n'è tanta diciamo in giro qui. Avrebbero prescritto farmaci a pazienti fantasma, i sei medici operanti a Vibo Valenza e in provincia che hanno ricevuto l'avviso di conclusione indagini per truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria che hanno effettuato i controlli informatici sulla banca dati prescrizioni mediche sono riusciti attraverso ulteriori elementi di indagine a capire che i medicinali risultavano prescritti a persone decedute così da gonfiare il numero degli assistiti per il quale veniva poi percepito il rimborso dallo stesso servizio sanitario. Sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza la procura di Vibo Valenza ha sequestrato le ricette sospette ed ha emesso l'avviso di conclusione indagini. Il procedimento costituisce la prosecuzione di un'attività che nel 2009 con l'operazione denominata Ippocrate portò la Guardia di Finanza a segnalare alla Corte dei Conti un rilevante danno erariale per 129.000 euro scaturito dalla mancata cancellazione dalla lista assistiti dei medici di famiglia di 821 persone decedute o emigrate accertando anche la responsabilità a carico di 72 dipendenti della pubblica amministrazione tra dirigenti e dipendenti dell'ASP sindaci e dipendenti comunali. Una vicenda che riporta alla ribalta la denuncia dell'ex assessore regionale alla sanità Doris Lomoro che all'epoca del suo insediamento aveva segnalato il fenomeno delle somme indebitamente erogate dalla regione per assistiti deceduti o trasferiti. 12 fucili, 4 dei quali d'epoca risalenti alla Seconda Guerra Mondiale tutti rubati in regione del Nord Italia sono stati recuperati dai carabinieri che hanno arrestato due fratelli Giuseppe ed Angelo Stambè rispettivamente di 53 e 35 anni. Il ritrovamento è avvenuto in un terreno di giro carne attiguo ad una proprietà dei due fratelli in località Rombola. Le armi, tutte funzionanti, erano interrate in tubi di plastica. Circa una sessantina i carabinieri impegnati nell'operazione avviata dalla compagnia di Serra San Bruno che ha chiesto l'aiuto dei cacciatori del nucleo e li portato a distanza a Vibo Valencia e con l'ausilio degli uomini della vicina stazione di Soriano Canabro. I militari hanno scavato per l'intera giornata per portare alla luce quello che è apparso un vero e proprio arsenale ben nascosto. Le otto armi di moderna fattura sono state sequestrate da Giuseppe Stambè commerciante di materiali per l'agricoltura tra questi vi è una doppietta alcune carabine ed altri fucili Beretta tutti riconoscibili dal numero di matricola considerato che solo un fucile calibro 12 Bernardelli ha la matricola Brasa. Gli altri quattro fucili sono stati sequestrati al fatelo angelo bracciante agricolo in questo caso si tratta di armi molto particolari in quanto risalgono alla seconda guerra mondiale assai apprezzate da collezionisti ed appassionati. I fucili d'epoca erano in uso due all'esercito inglese calibro 303 modello Enfield uno a quello russo ed uno all'esercito tedesco un fucile Mauser K98 calibro 8x57 recante ancora l'effigio del Terzo Reich tutte le armi erano perfettamente conservate e funzionanti e sono state ritrovate all'interno di grossi tubi di plastica gialli che di solito vengono usati nell'edilizia nei numeri di matricola si è scoperto che la maggior parte proviene da furti effettuati nell'ordio Italia che erano stati regolarmente denunciati alle forze dell'ordine dai legittimi proprietari e che si tratta di armi di buona fattura e notevole valore addirittura uno di questi ha la particolarità di avere tre canne due affiancate ed una di precisione più piccola posta nella parte inferiore del fucile i cui colpi venivano sparati da un secondo grilletto posto dietro quello principale Sanzioni immediate alle regioni che non programmeranno gli investimenti dei fondi comunitari secondo un calendario stabilito dal governo chi resterà indietro perderà i soldi che verranno stornati dalla quota territoriale e destinati a progetti a programmi nazionali di spesa e la cura indicata dal ministro Fitto per risolvere le lentezze nell'individuazione dei canali entro i quali far circolare le risorse stanziate dall'Unione Europea alla Calabria nell'ambito del POR 2007-2013 spettano 4 miliardi di euro 7 gli ambiti di intervento gli assi strutturali vanno dall'occupazione all'innovazione tecnologica fino ad oggi la nostra regione ha impegnato il 30% dei 3 miliardi di euro concessi per attuare gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ha impegnato il 14% degli 860 milioni di euro concessi per realizzare gli obiettivi sostenibili con i contributi del Fondo Sociale Europeo complessivamente è stata pagata una quota pari al 10% delle somme programmate 180 milioni a fronte del miliardo e 800 milioni destinato per progetti di interesse locale l'annuncio del governo di tagliare le risorse e chi perde tempo dovrebbe già dalle prossime settimane sortire i suoi effetti il ministro per gli affari regionali Fitto ha indicato i termini entro i quali definire la programmazione il 31 maggio prossimo le regioni saranno chiamate alla verifica degli impegni il 31 dicembre del 2011 saranno chiamate alla verifica dei pagamenti effettivi il 31 ottobre 2012 infine la ricognizione generale sugli obiettivi raggiunti e sui finanziamenti investiti e spesi chi non rispetterà il ruolino di marcia dettato da Roma perderà le somme non impegnate che finiranno nelle casse dello Stato La nuova cattedra è già posizionata nel Duomo si procede con il posizionamento della pavimentazione Pietra Rosa di Mendicino nel presbiterio si lucidano gli scranni dopo oltre due anni di restauro la cattedrale di Cosenza torna al suo antico splendore il Duomo testimonianza della vita religiosa dei fedeli che ha attraversato questo luogo nei secoli come resti ritrovati qualche metro sotto l'altare risalenti all'età paleocristiana l'opera ha resa possibile grazie al contributo del Ministero dei Beni Culturali e della provincia di Cosenza oggi noi ce l'abbiamo il miracolo se penso che un mese addietro ancora eravamo in altissimo mare tra virgolette altissimo oggi invece quel sogno è diventato una realtà come si suol dire se sogno da solo il sogno resta sogno abbiamo sognato insieme e quando si sogna insieme il sogno diventa realtà abbiamo un po' sofferto faticato ma grazie all'interprendenza dell'architetto Mario Ciuto che ha programmato ha donato tutto del suo lavoro grazie alla sovrintendenza che ha curato anche i minimi particolari qui abbiamo il nostro architetto che ha curato più di tutti questo momento artistico e alla ditta che ha dimostrato molta solerzia ridare luce al uomo rispettando gli spazi liturgici e dando la giusta visibilità alle opere cancellate da precedenti restauri queste le direttive dei lavori progettati e curati dall'architetto Mario Ciuto noi abbiamo pensato soprattutto a rispettare l'impianto architettonico monumentale nel complesso che andava recuperato il suo vecchio splendore anche recuperando parti alla spazialità complessiva diciamo della cattedrale da un lato dall'altro abbiamo tenuto in dovuto conto l'istanza anche storica archeologica perché con queste con i ritrovamenti che abbiamo fatto all'interno realizzando questi scavi che non erano mai stati realizzati in passato abbiamo trovato delle testimonianze storiche che sono importantissime diciamo per la nostra memoria per il nostro passato domani nel duomo la celebrazione solenne e l'ordinazione episcopale di Monsignor Leonardo Bonanno vescovo della diocesi di San Marco scalea presbiterio che domani esprime non ce lo dimentichiamo questa consegna momentanea per questo esprime un sacerdote che diventa vescovo per così dire l'espressione più bella di un presbiterio e questo è il frutto vero e più bello di questo lavoro che ripeto è una metafora del presbiterio reale che sono i sacerdoti di una diocesi prima Soriano e Chiaravalle oggi Tauianova e Siderno poi toccherà San Marco Argentano e Palmi in tutto sono sei le strutture sanitarie in Calabria oggetto dei provvedimenti del piano di rientro che prevede la dismissione delle funzioni ospedaliere il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti ha visitato i nostocomi del Regino che da oggi diventeranno punti di primo intervento e nel corso del sopralluogo ha illustrato dati e cifre all'ospedale di Siderno ad esempio su 22 posti letto erano impiegate 85 unità con un costo complessivo di 431.000 euro a posto letto annuo molto alto rispetto alla media che va da 120.000 a 180.000 euro la struttura aveva una produzione di 3,5 milioni di euro e un costo complessivo di 9,5 milioni a Tauianova erano 18 i posti letto al 2009 con un personale di 93 unità e un costo complessivo di 411.000 euro a posto letto annuo produzione di 1,3 milioni di euro e costo complessivo di 7,4 milioni in ogni zona d'Italia ci sono dei colleghi che protestano in questo momento nello stesso orario per esprimere il disappunto nel come è gestita la ricetta unica la ricetta elettronica i certificati facendo capire intanto con ogni voce che lo stesso problema loro è il problema comune a tutta l'Italia noi siamo l'anello debole della catena ripete Ernesto Paola il medico che ha dichiarato guerra ai tanti troppi ed ingarbugliati passaggi burocratici che i cosiddetti medici di base devono osservare per rapportarsi alla nuova dimensione medico sistema sanitario Paola ha radunato in poco meno di un mese in tutta Italia chi la pensa come lui e dato vita ad una proposta contro quella che definisce la cattiva gestione della sanità pubblica che pone in una condizione marginale i professionisti che si occupano di medicina generale trasformandoli in burocrati ecco l'iniziativa di protesta andata in scena a Laurignano un piccolo centro alle porte di Cosenza si è venuto a creare una situazione per cui sicuramente l'innovazione è un'innovazione intelligente sia per quanto riguarda la ricetta sia per quanto riguarda le certificazioni solo che è stata strutturata in un modo assolutamente unilaterale senza sentire effettivamente le nostre esigenze e senza neanche pensare alle difficoltà che ci hanno invece creato queste cose intanto perché c'è un'enorme perdita di tempo vogliamo riappropriarci del nostro camice bianco vogliamo riappropriarci della nostra professione io lavoro da 26 anni per cui avevo qualche minuto in più per visitare il paziente senza pensare di dover usare un computer per organizzazione burocratica cosa vuol dire che mentre un paziente che ha una precordialgia nel mio studio io nel frattempo devo passare un'ora e mezza per poter cercare di entrare nel computer e fare una ricetta una ricetta o un certificato online quindi tutta la salute del paziente va a scapito di una burocrazia che ci viene imposta dall'alto c'è la rivendicazione di medici e l'appoggio incondizionato a questa protesta dei loro pazienti mezz'ora tre quarti d'ora aspettare che facessero questi certificati noi abbiamo bisogno di un medico non di un burocrati praticamente se no mi mettono un ragioniere e scrive il medico non può dedicarsi come è sempre stato ai pazienti che hanno bisogno della sua presenza anche fisica anche di scambiare una parola col paziente non è solo una carta quello che conta del rapporto medico-paziente Verbicaro è terra di vino ma la sua gente ha poco da festeggiare della popolazione attiva è oltre il 50% senza lavoro la mancanza di lavoro a Verbicaro è una storia vecchia Verbicaro era un paese che all'epoca della inchiesta sulla miseria e sui mezzi per combatterla quella di Rossidoria del 1953 veniva considerato caso limite in Italia gente con la valigia in mano sempre pronta a imbarcarsi sulla prima nave o a salire sul primo treno queste persone laboriosissime sono immigrate sono state al nord Italia all'estero Verbicaro ora è l'ombra di se stessa se prima la popolazione superava i 7000 abitanti oggi si è ridotta a meno della metà un centro abitato purtroppo abbandonato al 97% nel centro storico e al 30% nella parte nuova mio figlio era ritornato ha dovuto andare di nuovo via perché qua come lavoro non ce n'è e adesso dov'è? in Val d'Aosta cosa fa? l'edilizia viene l'edilizia ma qua purtroppo l'edilizia anche se lavorano lavorano per 10 giorni ci vuole 2-3 mesi per avere lo stipendio quindi come fanno? i giovani che invece sono rimasti hanno il rimpianto stampato dentro gli occhi sono diplomata in disegnatrice stilista di moda quindi non dovrei stare nemmeno qua dovrei essere almeno suo in qualche atelier ma è possibile che non posso lavorare nel mio paese non posso fare qualcosa nel mio paese in attesa di un lavoro che ancora non c'è le braccia rimangono conferte quelle dei ragazzi e quelle dei grandi è emergenza lavoro qua a Verbicare non si chiede lavoro è proprio emergenza le persone più non possono pagare neanche le bollette della luce signor per non parlare dell'età se noi stiamo parliamo della cosa più principale la bolletta della luce un genitore che deve fare qua ci staccano la luce da un giorno all'altro gli anziani si è normale che se ne vadano a passeggio o si lasciano riscaldare dal sole su una panchina ma loro no non se ne vogliono stare più con le mani in mano io non mi ricordo di essere stato tanti mesi in piazza io ho vergogna di girare in piazza perché c'è una famiglia signora se sta in piazza vuol dire che non lavora eh allora c'è una famiglia fino a me devo portare lo stipendio e quando a casa non lavora né l'uomo né la donna è del tutto inutile adere santi in paradiso lui lo fa fare qualche giornata in nero io pure e cerchiamo di portare avanti anche i figli dicono che gli abitanti di Verbicaro siano sempre stati dei gran risparmiatori ora non più stanno dando fondo ai loro risparmi questo è purtroppo un dato allarmante perché questa è una popolazione che nella provincia di Cosenza statisticamente era quella che più aveva risparmi depositati all'ufficio postale presso la banca di credito cooperativo al momento la situazione è ancora sotto controllo dice il sindaco sì ma per quanto un'emergenza che va trattata così come si trattano le altre emergenze come un alluvione come un terremoto come una frana perché è un terremoto sociale che è un terremoto